Siamo con il sindaco di Santià a Cappuccio. Sindaco, allora, malgrado il brutto tempo della domenica però a Santià le tradizioni proseguono, imperterrite e c'è già il programma variazione anche per il futuro e quindi la città vive questi giorni di divertimento sano, puro, vero, divertimento tra le tradizioni. Certamente, sì, il tempo sicuramente ha un po' rovinato, la giornata di ieri non ha aiutato molto, abbiamo dovuto rinviare la sfilata che sarà riproposta per sabato prossimo alle ore 14.30. Però questa città ha voglia comunque di fare festa, il Carnevale va avanti, continua con le sue tradizioni, con la voglia di fare, sapendo che riesce ad unire giovani e adulti. I giovani perché hanno voglia di imparare le tradizioni e cercare di apprendere e gli adulti perché hanno voglia di trasmettere ai nostri ragazzi la voglia di fare, di mettersi a disposizione proprio di questa città per continuare le belle tradizioni e la nostra cultura. Ecco, la tradizione è quella che fa la storia di una città ma è quella che gli permette di andare avanti, guardare avanti con sempre più ottimismo. Certamente, io penso che se noi riusciamo a concentrare le forze, insegniamo ai nostri ragazzi di continuare la tradizione e la cultura della nostra città, sicuramente può essere un punto di vantaggio per creare quel turismo che è ancora possibile ricercando le tradizioni di una volta. Dobbiamo provarci quantomeno perché dall'altra parte alcune cose purtroppo non ci sono più, il periodo è particolarmente difficile e allora bisogna provarci. Ecco, le tradizioni sono fondamentali, cambiano tante cose come è stato detto, però le tradizioni sono quelle che tengono unito un territorio, non solo il piccolo orticello di casa ma proprio il territorio intero e se tutto il territorio collabora vuol dire che si rende più fiorente la zona in cui viviamo. Certo, sicuramente sì, se facciamo squadra anche con i colleghi sindaci riusciamo a valorizzare questo territorio e riusciamo a valorizzarlo sulle cose su cui è possibile ancora lavorare, avere un buon margine di miglioramento.